Allora, questo è il prototipo del macchinario d'acquisizione PTM, denominato PT che è montato attualmente in forma provvisoria su una breadboard è controllato da un Arduino 2009, che è il vecchio modello e in questa piastra separata c'è il Darlington che controlla il relais la relais sarà collegata alla fotocamera, praticamente il relais controllerà lo scatto della fotocamera qui sulla breadboard ho montato i 10 led che serviranno a illuminare il modello che in realtà saranno poi disposti sull'arco che abbiamo visto nel rendering 3D con le loro resistenze, più un led di stato che serve a far capire all'utente a che punto del programma siamo visto che non c'è un display con relativa resistenza due pulsanti di controllo, uno dei quali è reset e l'altro è avanti che serviranno a decidere varie cose uno è reset, un manuale, l'altro è avanti, automatico a seconda del punto del programma in cui ci ritroviamo infine un potenziometro, questo qui che ci permette di regolare il tempo di scatto nella modalità automatica il tutto è alimentato da un pacco batterie ricaricabile vediamo un attimo come funziona il programma ora si accende semplicemente collegando ma in seguito ci sarà un interruttore esterno quando il programma è caricato il led rosso si accende possiamo entrare in modalità manuale in questo caso saremo noi con il pulsante avanti ad accendere manualmente i led in sequenza con il pulsante reset possiamo tornare all'inizio nel caso in cui una scansione non sia andata a buon fine e arrivare fino alla fine nel caso in cui si arrivasse fino alla fine automaticamente mandando avanti ritornerebbe al primo se noi invece spegniamo e riaccendiamo una volta caricato il programma possiamo decidere di entrare in modalità automatica che ci è segnalata dal lampeggio rapido del led invece che lento con il potenziometro possiamo regolare il numero di secondi che vogliamo per ogni scatto ora mettiamo il minimo che è un secondo e premiamo avanti come avete visto la scansione è stata effettuata è stato mandato il comando di scatto della foto alla fotocamera cosa che in modalità manuale non viene fatto dal momento che si pensa che ci sia un operatore a condurre queste operazioni e alla fine della scansione il sistema si rimette in attesa è possibile iniziare la nuova scansione premendo il tasto avanti il consumo di batterie massimo è sui 100mAh medio credo sarà sui 50mAh comunque possiamo garantire da un minimo di 20 ore di utilizzo continuativo ad un massimo di una quarantina d'ore con normali batterie ricaricabili da 2100mAh questo è quanto è stato fatto è stato fatto è stato fatto è stato fatto Grazie a tutti.